I criteri saranno più esigenti rispetto alla normativa vigente sulla candidabilità e riguarderanno condanne e processi penali in corso, conflitti di interesse, antimafia. Spero che questa nostra iniziativa, che oggi nasce, contribuisca ad una politica migliore e anche ad avvicinare tanti cittadini italiani che dalla politica si sono allontanati. Scelta civica, la società civile. Tutte le persone che hanno stato con i pochi, con le persone che hanno avuto difficoltà durante i ultimi anni per la crisi economica, tutte le persone che sono attive in innovazione sono con Monty, perché siamo in need di creare qualcosa di nuovo da la politica. Grazie.